ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo tornati su clash royale per vedere diciamo questo aggiornamento per il fatto della ricompensa numero tre cose però non so se sarà facile da fare quindi adesso andiamo a donare carta epica andiamo a prenderci il regalo qua della domenica epica e andiamoci a giocare quindi queste partite a posto stiamo a barbari scelti se vabbè un'altra valkyria ok vediamo se riesce a dare almeno un hit peccato ce ne stiamo dando quasi due di hit maia non ha fatto la torre cioè completare sti missioni è impossibile è impossibile seriamente cioè ma perché sto aggiornamento come me lo so chiesto non è così quindi che è guarda là non c'è caldo, facciamo perdere qua